rapina in tabaccheria pietra santa individuati responsabili sono un ventenne di origine russa ma cittadino italiano e un quindicenne di poggi bonzi lo scorso 22 novembre armati di una mazza da baseball avevano minacciato la titolare della tabaccheria manicini di seravezza per convincerla a consegnare l'incasso le indagini dei poliziotti del commissariato di forte dei marmi hanno stretto il cerchio il ventenne in carcere il minorenne affidato a un parente in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria ecco le immagini shock del colpo grazie 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 grazie